Il senato ha approvato il decreto legge Exilva con alcuni emendamenti relativi all'indotto. Adesso la palla passa alla Camera ma il senatore turco parla di bidone di Stato. Manca un solo giorno per l'attesissimo appuntamento della pessima di Manduria. 7-12 marzo le date, una settimana tra dibattite e performance culinarie. Domani alle 15.30 l'inaugurazione. Buongiorno, ben trovati. Consueto appuntamento con l'informazione dedicata a Taranto e provincia. C'è stato firmato nella città bimare il protocollo d'intesa tra la regione Puglia e l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio per la riqualificazione professionale degli operatori portuali. Il governatore di Puglia Michele Emiliano non molla neppure sull'addio del progetto Ferretti nello Yard. Un protocollo d'intesa per la riqualificazione professionale dei lavoratori di ambito portuale con una particolare attenzione per gli operatori attualmente in carico alla Taranto Port Workers e che stanno per vedere conclusa l'ultima proroga. È l'iniziativa lanciata dalla regione Puglia e la Presidente Emiliano ha firmato il documento assieme al Presidente dell'autorità di sistema portuale dello Ionio, Sergio Prete. Alla firma del documento hanno partecipato anche le organizzazioni sindacali che si sono poi intrattenuti nella sede dell'autorità portuale con i due presidenti. Nel corso dell'incontro sono emerse novità importanti. Il Presidente della regione, Michele Emiliano, ha ribadito la richiesta al governo di una proroga di almeno un anno per i 338 lavoratori ex TCT iscritti all'Agenzia di somministrazione portuale. L'addio al progetto di riqualificazione di Ferretti invece non è ancora certo. Sono in corso tentativi per recuperare l'investitore. In caso contrario sono già arrivate numerose manifestazioni di interesse per l'area dello Iardex Belleli. Mi auguro che il governo, in una situazione sociale molto difficile come quella dell'area industriale di Taranto, ci venga incontro e si renda conto dell'importanza anche per il governo stesso di fare questo gesto di comprensione ma anche di rilancio della professionalità di questi lavoratori in vista dei numerosi investimenti che noi ci auguriamo possano al più presto avvenire nell'area portuale. Già a lunedì sono arrivate altre manifestazioni di interesse di soggetti che vogliono o realizzare interventi analoghi o similari a quelli di Ferretti o utilizzare l'area per altre finalità. Ed il Senato ha approvato il decreto legge ex-ilva con alcuni emendamenti relativi all'indotto. Adesso la palla passa alla Camera, il senatore turco parla di bidone di Stato. Ok del Senato al decreto legge ex-ilva. I sì sono stati 84, i contrari 27, gli astenuti 30. Il provvedimento passa alla Camera ed è stato illustrato dal senatore Salvo Pogliese di Fratelli d'Italia. Ringrazio i senatori, ha dichiarato il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso al termine del voto finale per la piena collaborazione manifestata nell'iter del provvedimento che ha consentito di migliorarne il testo. Siamo in una fase decisiva che necessita della massima responsabilità e della più ampia condivisione per salvare gli stabilimenti dell'ex-ilva. In sede di conversione, ha ricordato il ministro, sono stati approvati una serie di emendamenti che hanno recepito le richieste giunte dall'indotto. È stata prorogata sino a un massimo di 10 settimane la cassa integrazione dei lavoratori dell'indotto. Sono stati rivisti i parametri di accesso al fondo di garanzia e accolta la richiesta della Regione Puglia, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, di svincolare quote d'avanzo vincolato di amministrazione per ulteriori finanziamenti in favore delle imprese. La Wilma, con il segretario provinciale di Taranto Sperti, e la FIOM, con il coordinatore nazionale Siderurgia Scarpa, chiedono di salvaguardare i crediti dei lavoratori. Critico invece il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che in aula ha parlato di bidone di Stato e chiede un accordo di programma. Il governo, con questo provvedimento, va a proporre per l'ennesima volta il bidone di Stato, perché questo sarà poi il destino di tutti i crediti, di tutte le imprese e anche dei lavoratori. Diversi gli eventi su Taranto relativi al periodo di quaresima, ascoltiamo Laura Milano. La città di Taranto entra nel vivo del percorso quaresimale della confraternita della Dolorata, con un evento di spiritualità molto atteso, che è quello della peregrinazio del reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Questo santuario enorme in Sicilia, che ospita questa immagine della Madonna, sulla quale c'è stata una lacrimazione miracolosa. E queste lacrime saranno portate in processione qui l'8 di marzo, con un'accoglienza solenne nel castello aragonese alle ore 17. È un segno bello, un segno bello molto più eloquente di quanto riusciamo a spiegare, perché questo reliquiario poi sarà messo ai piedi dell'immagine della Vergine Adolorata, così venerata a Taranto. Anche il programma della Settimana Santa 2024 prevede appuntamenti di carattere culturale con il coinvolgimento degli studenti, mostre visitabili nella chiesa di San Domenico, in Città Vecchia e nel castello aragonese. Abbiamo pensato di continuare nel segno dell'anno scorso con eventi culturali e quest'anno anche con l'aggiunta dell'arrivo del reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, che è un evento spiritualmente molto elevato ed importante per la nostra confraternita e per la nostra città. Tanto che abbiamo invitato anche altre confraternite in questa pellegrinazio, voluta dalla no confraternita e anche, ci sia io che Don Emanuele, padre spirituale della confraternita, ci siamo spesi molto su questo punto di vista. Otto nuovi alberi da frutto messi a dimora nel giardino della scuola Giovanni XXIII di Martina Franca. A farsi promotore dell'iniziativa è stato il Lions Club Martina Valle d'Itria. Sono stati messi a dimora otto nuovi alberi da frutto nel plesso della scuola materna Giovanni XXIII di Martina Franca. L'iniziativa è del Lions Club Martina Valle d'Itria, un progetto didattico di cura degli alberi e di raccolta dei frutti da parte degli allievi dell'istituto. L'amore per la natura e per tutto ciò che può donarci deve essere inculcato già nei primi anni di vita di un uomo per il giusto rispetto verso la natura e l'ambiente. Un'occasione veramente importante anche di collaborazione all'interno del territorio. Quindi i Lions, il Club Service di Martina Franca ha voluto offrire a questo istituto che è molto impegnato nel recupero del verde piuttosto che nella salvaguardia del territorio in generale a questo genere di iniziative. Non è una proposta soltanto del Club Valle d'Itria di Martina Franca ma rientra in una delle cinque sfide globali del mondo laionistico che è quello di salvaguardare l'ambiente. Ci siamo rivolti alla scuola comprensiva Giovanni XXIII perché loro già possedevano un orto e anche dello spazio per piantumare degli alberi da frutto. Manca un solo giorno per l'attesissimo appuntamento della pessima di Manduria 7 e 12 marzo. Le date una settimana dunque tra dibattiti e performance culinarie. Domani alle 15.30 l'inaugurazione. È una bellissima giornata di sole. Speriamolo sia anche domani alle 15.30 per l'inaugurazione della pessima. Vedendo il meteo non è proprio così però speriamo dai. Beh pessima c'è un motivo proprio per questo. È tradizione. Sì la tradizione parla proprio del riferimento al meteo che crea un po' di problemi nello stesso periodo dell'inaugurazione. E quindi porterà fortuna diciamo. Quello si dice sempre Fiera Bagnata Fiera Fortunata quindi andiamo per quel motto. Pregniamo il buono del pessima. 281esima. Immagino ci siano anche dei ricordi perché adesso da assessore ma anche forse prima da bambino. Quando alla scuola venivamo con le classi noi manduriani la viviamo in modo diverso la Fiera Pessima. La viviamo come un evento, come una festa patronale. La viviamo, la sentiamo ecco. Poi è un momento anche commerciale va bene di innovazione e di tutto il resto. L'assessore Mauro Baldari ci accompagna poi all'interno della grande campionaria con più di 200 espositori su 6.500 metri quadri circa. Manca un solo giorno e questo è il momento degli ultimi ritocchi. Un'opportunità per espositori del settore dell'agricoltura, enogastronomia, turismo, artigianato, wedding ed eventi e visitatori per essere parte di una fiera dal calibro interregionale tra dibattiti e performance culinarie. Domani che emozioni ci sono? È sempre tanto voglio dire. Le aspettative sono alte quest'anno. 7-12 marzo è giorni da segnare sul calendario per vivere un'esperienza immersiva tra i profumi e i gusti di Manduria e della Puglia. Presentata a Taranto la regata velica Open Skift. La rada di Margrande sarà il campo di regata naturale per tre giorni da venerdì a domenica prossimi con il circuito nazionale Open Skift 2024. Una manifestazione sportiva di vela che darà al città di Taranto la vetrina nazionale grazie alla sua vocazione naturale, ovvero quella degli sport d'acqua. Numerosi atleti di età compresa tra i 12 e i 16 anni gareggeranno nel Mar Grande per l'evento velico che è stato organizzato dalla sezione tarantina della Lega Navale. Il presidente Flavio Musolino. Numeri importantissimi. Abbiamo 112 iscritti regatanti provenienti da tutte le regioni d'Italia. Quindi un evento molto importante per il quale abbiamo avuto la collaborazione della marina militare della FIV, del comune di Taranto e di tante partner e imprese private. La conferenza stampa della regata velica si è tenuta presso Porte dello Ionio alla presenza tra gli altri del vice sindaco di Taranto Gianni Azzaro e del direttore sportivo della Lega Navale Vito Mannara. Il mare può essere veramente un paniere ricco di opportunità attraverso in questo caso lo sport che è un evento sicuramente di importanti incontri di livello nazionale ma nello stesso tempo anche di promozione turistica. Sin dall'inizio questa tappa è sembrata una sfida per problemi e comunque difficoltà logistiche e poi diciamo tante altre cose su cui occorre un coordinamento di persone, di volontari con cui ho l'onore di lavorare già da più di un mese. La città di Taranto si prepara anche per un altro evento tra poche ore questa sera infatti l'evento calcistico la partita Taranto-Virtus Francavilla. Ascoltiamo. Derby infrasettimanale per il Taranto con la Virtus Francavilla si gioca tra le mura amiche dello Iacovone intanto vediamo qual è lo stato d'animo dei tifosi. Forza Taranto sempre. Deciso. Sempre. Sempre forza Taranto. Taranto. Quanto? 3 a 2. Chi vince? Vince Taranto 2 a 1 doppietta del nostro capocannoniere. Il Taranto è una grande squadra e vince pure io sono napoletano e faccio tifo per il Taranto vince 2 a 0 il Taranto stasera. Quindi un napoletano che tifa per il Taranto. Sì esatto. Vince il Taranto. Come dice lui 2 a 0. Eh tarantino no? Obbligatoria. Come andrà? 2 a 0 per il Taranto ovviamente. Quest'anno forse è l'anno giusto della Serie B. Vinciamo 2 a 0. 2 a 0. Speriamo che vince. Quanto? Almeno 1 a 0, 2 a 0. Un bel cappottone sarebbe bello. Signori stasera si gioca Taranto Virtus Francavilla. Chi vince? Vince il Taranto. Al microfono. Si spera il Taranto. Quanto? Quanto? 2 a 1. Per te? 1 a 0. Allora stasera Taranto 3. 3. Come San Cataldo. è più troppo. Pugliese, Francavilla, 0. Va bene? Punto e basso. Non ti chiacchiere io. Va bene? Ok, forza Taranto. Dopo di forza Taranto, forza Francavilla. Punto e basso. È stata negata la perizia psichiatrica all'uomo di Ceglie Messapica che nascose il cadavere della madre nel congelatore continuando a incassare la sua pensione. Dopo quasi due mesi di arresti domiciliari è stato scarcerato l'ex sindaco di Erchi e Pasquale Nicolì. Cresce la preoccupazione a Brindisi in vista della dismissione della centrale Federico II. Enel ancora non ha presentato un piano industriale nel vertice di Roma. Ha illustrato solo una serie di ipotesi per la riconversione. Durissima la provincia di Brindisi. Governo e azienda non stanno comprendendo la gravità della situazione. Ben ritrovati in diretta è il momento dell'informazione dedicata a Brindisi e provincia. È stata negata la perizia psichiatrica all'uomo di Ceglie Messapica che nascose il cadavere della madre nel congelatore continuando ad incassare la sua pensione. Non ci sarà una perizia psichiatrica per Angelo Bellanova, il 56enne di Ceglie Messapica che aveva nascosto il cadavere dell'anziana madre nel congelatore continuando a ritirare per suo conto la pensione e l'indennità di accompagnamento. Il gruppo del tribunale di Brindisi Vittorio Testi ha rigettato la richiesta avanzata dalla difesa nell'ipotesi che l'imputato fosse incapace di stare in giudizio. Bellanova sarà processato con rito abbreviato così come richiesto dallo stesso difensore nell'udienza fissata per l'11 giugno prossimo. Nel caso in cui sarà ritenuto colpevole potrà così beneficiare della riduzione di un terzo della pena, occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Queste le ipotesi di reato al termine dell'inchiesta condotta dal pubblico ministero Mauron Gallone con i carabinieri della stazione di Ceglie Messapica. Secondo l'accusa, Bellanova avrebbe percepito sia la pensione che l'indennità di accompagnamento da marzo al 22 novembre 2022, giorno in cui fu scoperto il cadavere per un importo di oltre 11.000 euro. Il corpo di Maria Bellanova, morta a 82 anni diversi mesi prima e conservato dal figlio in un congelatore, fu scoperto dai carabinieri dopo la segnalazione di alcuni parenti della donna che non la sentivano da tempo e che erano insospettiti dalle risposte evasive fornite dal figlio. Dopo gli ultimi tragici avvenimenti sulle strade provinciali di Brindisi, ad intervenire il presidente della provincia, Tony Matarrelli, che assicura l'attenzione per la sicurezza stradale ma chiede fondi per l'ente ed invita alla prudenza. Sono stati numerosi gli incidenti stradali nelle ultime settimane nella provincia di Brindisi, molti dei quali mortali, tante vite spezzate e ovviamente inevitabilmente il dibattito va anche sulla situazione della sicurezza stradale a garantire l'attenzione nonostante le ristrettezze economiche. Il presidente della provincia, Tony Matarrelli, che lancia anche però un messaggio a tutti i cittadini alla massima prudenza e all'attenzione alla guida. La provincia ha senza dubbio un quadro chiaro rispetto alle condizioni delle proprie strade, ci sono molti interventi da attuare, però occorre che arrivino le risorse affinché la provincia possa operare. Tutti sanno che quest'anno, a fronte di un impegno che era stato assunto di ulteriori risorse, il governo centrale ha tagliato altri 100 milioni alle province che già sono ridotte con bilanci veramente deficitari. A fronte di questo però vorrei aggiungere che questi incidenti sono avvenuti, la maggior parte, in tratti di strada dove non c'erano criticità particolari, che significa che non dobbiamo continuare a lavorare? No, dobbiamo lavorare molto sperando che arrivino le risorse, ma bisogna fare anche appello ai cittadini affinché quando percorrono le strade lasciano il telefonino, siano attenti, possano prestare maggiore attenzione nel momento in cui si mettono al volante, perché dalla loro attenzione dipende la loro vita e qualche volta anche la vita degli altri che sono a volte travolti, inconsapevolmente pur rispettando il codice della strada. Dopo quasi due mesi di arresti domiciliari è stato scarcerato l'ex sindaco di Erchie, Pasquale Nicolì. E' tornato libero dopo quasi due mesi di detenzione ai domiciliari l'ex sindaco di Erchie, Pasquale Nicolì. Il 9 gennaio era stato arrestato insieme all'assessore Vito Bernardi per concussione aggravata, abuso d'ufficio e altri reati legati alla pubblica amministrazione. Resta ai domiciliari il solo Bernardi, per il quale l'avvocato difensore ha presentato a sua volta istanza di scarcerazione. Essendo decaduta la giunta comunale, dopo che le dimissioni di Nicolì sono diventate irrevocabili, sono venute meno le esigenze cautelari nei confronti dei due indagati principali. L'ex assessora Pamela Melechi e l'ex responsabile dell'ufficio tecnico comunale, Ciriaco Pasquale, avevano già ottenuto da tempo la revoca del divieto di dimora a Erchie. Ora, a parte Bernardi, tutti gli ex componenti della giunta ercolana sono indagati a piede libero, compresi l'ex vicesindaco Giuseppe Polito e l'altra ex assessora Lina Ferrara. Il comune, intanto, è stato commissariato dal prefetto Michela Laiacona, che ha nominato il vice prefetto vicario Antonio Giaccari alla guida del municipio sino alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Cresce la preoccupazione a Brindisi in vista della dismissione della centrale Federico II. Enel ancora non ha presentato un piano industriale nel vertice di Roma, ha illustrato solo una serie di ipotesi per la riconversione durissima. La provincia di Brindisi, che tuona governo e azienda, non stanno comprendendo la gravità della situazione. Non si sblocca l'avvertenza Enel e non si registrano passi avanti nel processo di decarbonizzazione la scadenza del 31 dicembre 2025 è dietro l'angolo e ancora non si conosce il futuro della grande centrale Federico II e di conseguenza dei suoi lavoratori. Resta prudente il sindaco Giuseppe Marchionna che sollecita Enel a presentare un piano industriale definitivo, durissima invece la provincia, presente a Roma nel corso dell'ennesimo vertice politico-aziendale con il consigliere Pasquale Luperti. È andato che non si è detto nulla, Enel era completamente assente perché è presente nella riunione ma assente sull'argomento, non hanno detto nulla, hanno detto che ci sono tutta una serie di valutazioni, nel 2024 ancora stanno facendo delle valutazioni, quindi non c'è un programma, un progetto vero e proprio di riconversione della centrale. La situazione è delicatissima, rimarca Pasquale Luperti. Il governo è totalmente assente in questa vicenda, Brindisi rischia tanto e non soltanto dal punto di vista occupazionale. Un tavolo così importante dove si parla del futuro di una città dove ormai il sistema industriale brindisino è al collasso, è crollato e dove porterà danni importanti anche alle entrate dell'autorità portuale stessa per la mancanza dei traffici, tant'è che il presidente dell'autorità portuale ha dichiarato ieri ufficialmente che non c'è stata una nave di trasporto carbone dall'inizio del 2024. Questa è la situazione di Brindisi, il problema serio è che chi dovrebbe intervenire è il governo, ma il governo è assente perché era presente soltanto il capo di camminetto. Ed ora parliamo di degrado, lo facciamo con la collega Cristina Cavallo. Si trova lì, all'interno del parco Cesare Braico, a Brindisi, da tanti, troppi anni, in una condizione di estremo degrado. Era il febbraio 2012 quando l'allora commissario prefettizio Pezzuto diede l'ultimatum alla AS di Brindisi per prendere la decisione. Cosa fare di questa struttura che si trova all'interno del parco Cesare Braico? Già allora è in grande ed estremo degrado, ora la situazione peggiora giorno dopo giorno. I pericoli qui sono tantissimi. Nonostante la diffida, i diversi casi di cronaca nera accaduti all'interno dell'ex centro allergologico, utilizzato ancora in maniera impropria e pericolosa da clochard e da ragazzi in cerca di un angolo per la loro intimità. La AS di Brindisi, proprietaria della struttura, non ha mai agito, ne ha fatto sapere quali sono le sue intenzioni in merito a questo rudere. E allora ecco l'ennesima denuncia. E l'ennesimo appello parte da Giampiero Epifani che per anni si è occupato di questa situazione. Epifani, vice segretario cittadino della Casa dei Moderati. Sono passati 12 anni, speriamo che nel giro di qualche mese si risolva. Io mi ricordo che nel 2021 ci fu detto che era lo studio la possibilità di abbattolo. Per me va benissimo, ma facciamolo, facciamolo prima. Se si vuole recuperare, che si recuperasse. Però così non può rimanere. E allora, in attesa di notizie certe, i topolini rientrano nella loro tana indisturbati. Sarebbe stato individuato e denunciato l'autore delle scritte pro-Palestina, Parsea Brindisi, nelle vicinanze del Calvario cittadino e della Chiesa di San Benedetto. Sarebbe un uomo brindisino sui 40 anni. Con problemi personali l'autore delle scritte apparse nel pomeriggio di martedì 5 marzo nei pressi del Calvario brindisino e della Chiesa di San Benedetto nel centro cittadino. L'uomo sarebbe stato individuato dalle forze dell'ordine grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona e la testimonianza di alcuni cittadini. Sembrerebbe esclusa dalle indagini portate avanti dagli agenti della Digos e della Questura di Brindisi la matrice politico-religiosa e potrebbe quindi trattarsi solo di un atto vandalico con l'uomo che sarebbe stato comunque denunciato per danneggiamenti. Ad accorgersi dell'accaduto e avvertire alle forze dell'ordine alcuni residenti. La preoccupazione principale riguarda la porta d'ingresso della storica chiesa di San Benedetto dove i due segni di vernice rossa sono stati lasciati sull'arco che circonda l'ingresso principale e per il quale servirà un intervento attento e specifico per evitare di danneggiare un importante monumento cittadino. Due invece le scritte con la parola palestina realizzate sempre dall'uomo anche in questo caso con due segni sempre rossi sul muro presso l'ingresso degli uffici della chiesa e l'altra invece sul marciapiede nei pressi del cancello d'ingresso del Calvario di Brindisi. Lo abbiamo già detto all'interno dell'edizione dedicata a Taranto e provincia questa sera dunque a Taranto c'è il derby Taranto Virtus Franca Villa. Andiamo ora a vedere come si preparano i tifosi della Virtus Franca Villa. Una partita complicata, un derby difficile ma se salvezza sarà si dovrà passare anche da questi match. E' un po' questo il pensiero che ha accomunato in mattinata i tifosi della Virtus Franca Villa che abbiamo intercettato in centro città a poche ore dalla sfida in programma per questa sera allo Iacovone. Chiaramente sono una partita importante sia perché la classifica è quella che quindi noi abbiamo bisogno di punti perdere vanificherebbe la vittoria fatta contro il Latina. Bisogna dar merito al Taranto perché sta facendo un campionato grandissimo e speriamo ecco speriamo per il meglio comunque che sia anche una bella giornata di sport. Ogni partito è complicato ormai, diciamoci la verità, stasera è un derby importantissimo e bisogna entrare in campo agguerriti con i coltelli tra i denti per modo di dire sin dal primo minuto perché ogni punto è preziosissimo. sicuramente è una partita difficilissima comunque io ho fiducia nei ragazzi perché ho visto già da domenica che hanno giocato con il cuore speriamo solo nel risultato anche se sarà difficilissima comunque io ci spero. Beh è normale che bisogna lottare da oggi fino alla fine del campionato sono nove finali che sono rimasti stasera devono provare il tutto per tutto senza risparmiarsi una partita combattuta da ambe le parti spero che i nostri entrino in campo con la convinzione di portare i tre punti a casa che ci servono come il pane al termine dell'udienza di convalida il GIPA ha disposto la misura cautelare in carcere ma non ha convalidato il fermo per il pericolo di fuga nei confronti del 27enne che ha ucciso Antonio Amin Afendi scandalo di estorsione e mafia nei comuni di Lecce e Carmiano il racconto di un'inchiesta che sconvolge la Puglia una protesta di Cobas davanti la sede della regione Puglia di Lecce per rivendicare i diritti del personale delle cooperative che svolgono i servizi di Ispe Lecce ben ritrovati al termine dell'udienza di convalida il GIPA ha disposto la misura cautelare in carcere ma non ha convalidato il fermo per il pericolo di fuga nei confronti del 27enne che ha ucciso Antonio Amin Afendi non è stato convalidato il fermo per il pericolo di fuga ma è stata applicata la misura cautelare in carcere nei confronti del 27enne che alle 11 circa di sabato mattina in piazza Petracca a Casarano dalla sua Audi A3 sulla quale viaggiava insieme ad un amico avrebbe ucciso con tre colpi di pistola Antonio Amin Afendi un 32enne del posto il giovane ha confermato quanto aveva già raccontato ai carabinieri del comando compagnia di Casarano ai quali si era costituito poche ore dopo l'agguato nel corso dell'udienza di convalida che si è svolta a martedì pomeriggio presso la casa circondariale di Lecce dinanzi alla GIPA Napaola Capano il 27enne assistito dall'avvocato Simone Viva ha spiegato anche le motivazioni che lo avrebbero portato ad uccidere Afendi da ricercarsi nelle minacce e provocazioni che quest'ultimo da anni continuava a mettere in atto nei suoi confronti e verso sua moglie a far scatenare la furia omicida del presunto assassino sarebbe stato proprio l'ennesimo episodio di intimidazione nei confronti della donna che si sarebbe verificato appena pochi minuti prima del delitto quando Afendi l'avrebbe seguita e spaventata mentre si trovava in auto con un'amica inducendola a chiamare il marito questo è il motivo che avrebbe spinto il 27enne a recuperare il revolver Magnum calibro .375 acquistato pochi mesi prima per 400 euro e che avrebbe occultato in un casolare lungo la provinciale per Taurisano nei minuti successivi avrebbe raggiunto Antonio Amina Fendi in piazza Petracca e avrebbe sparato i tre colpi i quali si sono rivelati fatali per la sua vittima che è morta sul colpo omicidio volontario aggravato dalla premeditazione detenzione illegale di arma queste le accuse contestate al 27enne dalle PM Giovanna Cannalire e Rosaria Petrolo che hanno preso parte all'udienza di convalida durante la quale il ragazzo però ha precisato di aver agito d'impeto senza nessuna premeditazione il prefetto di Lecce Luca Rotondi ha convocato un comitato alla presenza dei comuni di Casarano, Melissano, Matino Collepasso, Ruffano, Taviano, Taurisano e dei vertici delle forze dell'ordine lo Stato ha detto non abbasserà la guardia un comitato straordinario per la sicurezza ha convocato presso la prefettura di Lecce alla presenza dei comuni di Casarano, Melissano, Matino Collepasso, Ruffano, Taviano e Taurisano e questo l'ennesimo tastello nella strategia approntata dal prefetto di Lecce Luca Rotondi in seguito all'omicidio avvenuto nei giorni scorsi a Casarano un lavoro con i vertici delle forze dell'ordine per garantire sicurezza e legalità in quei comuni che sembrano apparentemente più esposti ai fenomeni malavitosi in primo luogo va fatto un plauso alle forze dell'ordine la magistratura che agiscono anche in questo caso con grande efficienza e immediatezza il controllo del territorio è massimo alla zona dell'Alto Salento dei comuni interessati sono qui sei sindaci che rappresentano non solo il territorio di Casarano ma anche i comuni con termini e come i sindaci stessi hanno ammesso la vigilanza è massima c'è stato un forte sforzo dello Stato l'episodio in sé è un episodio però molto grave che sicuramente non va assolutamente sottovalutato e perciò è importante oggi ho chiamato i sindaci perché dobbiamo parlare ancora meglio del territorio per rendere l'attività di prevenzione soprattutto ancor più capillare e in questo per me è fondamentale anche l'apporto dei primi cittadini eccellenza in seguito all'ultimo omicidio avete già disposto un aumento delle misure di sicurezza saranno mantenute o saranno revocate visto che c'è stato l'arresto? No, probabilmente in questa fase manteniamo molto alta la guardia quindi sicuramente non parliamo di ridimensionamenti anzi di maggiore attenzione sono in corso importanti attività diciamo l'attività info-investigativa è ovviamente espressa al massimo e anche su quel territorio lo Stato deve continuare a dimostrare una presenza forte, una reazione forte Estorsione e mafia nei comuni di Lecce e Carmiano il racconto di un'inchiesta che sconvolge la Puglia Una vicenda intricata di estorsione e narcotraffico è presunta connessione con la criminalità organizzata sta scuotendo i comuni di Lecce e Carmiano gettando un'ombra di sospetto su diverse figure istituzionali imprenditoriali della Regione La richiesta di rinvio a giudizio spiccata nei confronti di 38 persone evidenzia un panorama di corruzione e violenza che ha coinvolto 24 presunte vittime di episodi estorsivi Le indagini condotte dalla Direzione Distrittuale Antimafia e dalla Procura di Lecce guidate dal PM Giovanni Cannarile e Alessandro Prontera hanno rivelato un periodo di 18 mesi compreso tra dicembre 2020 e maggio 2022 in cui una frangia della Sacca Corona Unita guidata da Fernando Nocera avrebbe operato con piena libertà nel territorio spesso in connessione con il clan Tornese Politi di Monteroni Il modus operandi del gruppo criminale includeva attività di narcotraffico, intimidazione ed estorsione Gli imprenditori erano uno dei principali bersagli sottoposti al tradizionare racket per ottenere denaro Il seno avrebbe scorso un blitz delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di 37 persone di cui 28 condotte in carcere e 9 domiciliari grazie alle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Campi Salentina e del nucleo investigativo del reparto operativo di Lecce Le indagini hanno anche rivelato una serie di accuse incrociate tra l'ex sindaco di Carmiano Giancarlo Mazzotta e il sindaco in carica Giovanni Arroi entrambi estranei all'inchiesta L'indagine ha anche rivelato presunte regalie in cambio di voti durante le elezioni 2021 coinvolgendo tre assessori e due funzionali comunali Sebbene questo filone delle indagini sia ancora in corso la richiesta di rinvio a giudizio per i 38 imputati è stata avanzata dopo la chiusura dell'inchiesta lo scorso gennaio L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 3 maggio davanti al giudice Francesca Mariano Un incendio verificatosi alle 23 di martedì sera ha completamente distrutto un locale lungo la litoranea Santa Maria al Bagno Lido Conchiglie a Galatone Un incendio nella notte appena trascorsa ha distrutto la struttura del chilometro zero un rinomato locale situato sul litorale ionico in Salento Intorno alle 23 circa di martedì sera alcuni automobilisti di passaggio hanno notato le fiamme che stavano completamente avvolgendo il locale che si affaccia sul mare in località La Reggia a Galatone lungo la litoranea Santa Maria al Bagno Lido Conchiglie Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Gallipoli che allertati dai presenti sono giunti sul posto e hanno provveduto a domare il rogo e mettere in sicurezza l'area con l'ausilio dei colleghi giunti dal comando provinciale di Lecce Oltre a loro sul posto erano presenti anche gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Nardò che ora insieme ai caschi rossi stanno cercando di capire di più circa la natura dell'incendio che si sospetta essere dolosa Le forze dell'ordine hanno già provveduto ad acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona le quali saranno fondamentali per le indagini i danni che la struttura quasi completamente in legno ha riportato sembrano a prima vista ingenti ma una precisa quantificazione sarà possibile nelle prossime ore Sull'accaduto si è espresso il sindaco di Galatone Flavio Filoni che attraverso un post Facebook ha condannato in maniera netta e senza esitazione il vile gesto Il chilometro zero come tutti sanno scrive il primo cittadino è un'attività formata da dei ragazzi che si sono messi in gioco nel nostro territorio regalando soprattutto nei mesi estivi dei piccoli momenti di felicità a lungo la costa della reggia Esprimo la massima solidarietà a tutti loro con la speranza di tornare presto a godere di un altro splendido tramonto insieme Torniamo ad occuparci di cronaca giudiziaria La Corte d'Appello di Lecce ha messo una decisione che ridimensiona le pene dell'ex giudice di Bari Giuseppe De Benedictis e dell'avvocato Giancarlo Chiarello escudendo l'aggravante della finalità mafiosa I giudici hanno inflitto 7 anni al magistrato e 6 all'avvocato rispetto alla condanna a 9 anni e 8 mesi decisa in primo grado E' stata anche stabilita la revoca della confisca di 1.150.000 euro per Chiarello Inoltre Alberto Chiarello è stato condannato a 3 anni e un mese mentre Danilo Della Malva ha ricevuto una pena di 2 anni e 8 mesi Il processo che si è svolto in primo grado dinanzi al giudice Laura Liguori riguardava presunte ipotesi di corruzione De Benedictis era accusato di aver ricevuto denaro per emettere provvedimenti favorevoli a indagati alcuni di quali affiliati a gruppi vicini alla criminalità organizzata Tuttavia, secondo la difesa, i fatti non erano collegati a un coinvolgimento diretto con la mafia Le indagini sono state condotte dai PM Roberta Licci e Alessandro Prontera sotto il coordinamento del procuratore della Repubblica Leone De Castris Nel 2021 sia De Benedictis che Chiarello erano stati arrestati in relazione alle accuse mosse nei loro confronti La Corte d'Appello di Lecce ha deciso di ridurre le loro pene in secondo grado sostenendo che gli episodi corruttivi non fossero necessariamente legati all'agevolazione di un'associazione criminale di tipo organizzato È importante notare che De Benedictis era stato precedentemente coinvolto in un'altra vicenda giudiziaria riguardante la scoperta di un arsenale in una masseria di Andria In quel caso, nel settembre scorso, la sua pene era stata ridotta da 8 anni e 8 mesi a 9 anni e 3 mesi di reclusione La difesa ha fatto affidimento sulle ammissioni dei due imputati per smontare l'aggravante mafiosa sostenendo che gli episodi di corruzione fossero indipendenti da un coinvolgimento con la criminalità organizzata Le ragioni di questa decisione saranno dettagliate nella motivazione Una protesta di Cobas davanti alla sede della regione Puglia di Lecce Chiediamo o la risoluzione immediata per queste 58 famiglie o le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione, di ISPE perché non hanno dato le risposte giuste che servivano sia all'ente e ai lavoratori Continua la protesta di Cobas per la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale che svolge da moltissimo tempo i servizi ISPE presso le cooperative anche alla luce della pronuncia del TAR di Lecce e per i vincitori del concorso di pulitori in sanità service e per il SEUS 118 Continuano i sitini di protesta di Cobas? Sì, continuano i sitini di protesta perché abbiamo diverse vertenze aperte che non trovano soluzione La prima è quella relativa a sanità service Lecce dove c'è un concorso per 159 pulitori che ormai da due anni attendono per lavorare cosa che non avviene Oggi ci sono i lavoratori, noi portiamo la nostra testimonianza sia come consigliere comunale che come partito, quindi come sinistra italiana perché è una questione, quella di ISPE che abbiamo seguito sin dall'inizio in ordine alla quale si ammaglie con la nostra consigliera Maria Teresa De Maggio che a Lecce, non solo attraverso di me, abbiamo gridato l'ingiustizia che si nasconde dietro questo bando che non riconosce alcuna premialità ai lavoratori e alle lavoratrici che per anno hanno svolto quelle mansioni e che oggi rischiano di vedersi messi da parte pur avendone i diritti vediamo che dove non arriva la politica arriva la magistratura e quindi il TAR ha riconosciuto seppur ancora in via cautelare le ragioni di questi lavoratori e queste lavoratrici ed anche il TG dedicato a Lecce e provincia termina qui grazie per averci scelto, per averci seguito a tutti voi un buon proseguimento di giornata per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo per averci seguito